Che cosa può fragilizzare una relazione di coppia in una coppia? Siamo sempre in tre, l'altro, io e la nostra relazione. Il tutto si gioca nel campo delle forze, forze di attrazione, forze di riconciliazione, forze di coesione, che lavorano nella coppia, ma ci sono anche forze di ripulsione, di separazione, di allontanamento. Dunque tutta la vita di coppia si gioca fra forze coesive e forze separative, uno dei punti sensibili che ben poche coppie menzionano. Grazie a tutti.